Possiamo uscire da questa crisi istituzionale della Comunità Nazionale Italiana e dell'Unione Italiana con un unico metodo a fare, sedere attorno a un tavolo tutti con il dialogo e quando dico tutti anche le persone che hanno in qualche modo avviato una certa decisione che è scaturita in questa crisi definitiva che è prolungata, che dura in realtà da anni. Un dialogo che vada a costruire, però questo dialogo deve essere in qualche modo costruito senza più cercare le cause colpevole o interpretare chi ha ragione o meno, ma avere un unico obiettivo di confermare la nostra unità, di confermare la nostra compattezza e di trovare una nuova intesa che vada a dare sicurezza a tutti i nostri connazionali e a tutte le nostre organizzazioni. Grazie.